Siamo all'interno del plesso scolastico di via Cavour, proseguono i lavori di Pescara Energia per la riqualificazione energetica delle scuole di Pescara. Tutto questo è importante, l'amministrazione comunale e il suo assessorato alla pubblica istruzione credono fortemente in tutto questo e hanno spinto a che tutto questo potesse accadere. Quest'anno stiamo sistemando sei scuole e due siamo in attesa dell'ok della sovrintendenza per completare anche le altre due. Lo scorso anno abbiamo sistemato otto scuole, quindi stiamo portando avanti un programma assieme a Pescara Energia per la riqualificazione energetica di queste scuole di Pescara che cercheremo di fare su tutte le scuole. Quindi siccome noi abbiamo 54 plessi scolastici, pian piano cercheremo di fare l'efficientamento energetico in tutte le scuole. L'amministrazione ha visto lungo e lontano, noi abbiamo programmato questi lavori già precedentemente. Certo, tenendo conto di quello che sta succedendo in questo periodo, questi lavori avranno un risultato eccezionale sia sotto l'aspetto del risparmio energetico ma anche sotto l'aspetto estetico. L'amministrazione già da un anno e mezzo aveva deciso di intervenire per la riqualificazione energetica che consiste nel rifare il cappotto, nel cambio degli infissi e in alcune scuole di Pescara anche nel miglioramento qualitativo ed energetico dell'illuminazione all'interno degli edifici scolastici. Devo dire che la cosa importante è che l'amministrazione ci aveva visto a lungo e ha trovato in noi come Pescara Energia il suo braccio operativo perché consideriamo che tutti questi lavori di efficientamento vengono fatti fondamentalmente a costo zero per i cittadini perché all'interno di Pescara Energia c'è uno staff molto qualificato per cui noi partecipiamo ai bandi che vengono fatti dal GSE che è un braccio del Ministero Economia e Finanza e alla fine diciamo che su tutti i lavori che stiamo facendo ci vengono rimborsati all'incirca dall'80 al 90% delle spese che noi sosteniamo. Credo che sia importante anche per la qualità della vita dei nostri bambini e degli studenti che vanno a scuola trovarsi in un ambiente sicuramente più confortevole e questo naturalmente ci permette anche di poter risparmiare dal punto di vista energetico e offrire una qualità dei servizi sicuramente migliore che credo che sia l'obiettivo che ogni amministrazione ci deve porre per i propri studenti.